buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa oggi è venerdì 17 marzo 2023 vediamo subito le notizie che ci vengono dall'almanacco del giorno e vediamo che il santo che si festeggia oggi è san patrizio un santo molto caro soprattutto agli irlandesi di cui è il patrono patrono del popolo irlandese san patrizio era nato in realtà in scozia compì un'intensa opera di evangelizzazione siamo nel quinto secolo fu perseguitato fatto schiavo addirittura e sopportò veramente inannerrabili sevizi e sofferenze ma reagì e trova sempre nella sua fede la forza appunto di restare a galla di reagire e di avere fiducia nel prossimo questo è san patrizio un santo che poi è stato così venerato anche in altri paesi dove gli irlandesi si sono espansi così tramite l'immigrazione le previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene buono sulle marche ecco il sole che appare un po su tutta la regione cielo sereno oppure velato appena velato 20 deboli 20 deboli da nord per quanto riguarda le coste e da est per quanto riguarda l'entroterra temperature minime basse la mattina fa piuttosto fresco siamo sui 6 gradi mentre le massime raggiungeranno i 13 gradi ci sono brinate nelle valli preapenniniche le massime sono comunque in ascesa nei prossimi giorni dovrebbero rialzarsi un po dopo il brusco calo che c'è stato nei giorni scorsi rispetto alle piacevoli e calde temperature pre primaverile appunto di qualche giorno fa oggi apriamo il resto del carlino per quanto riguarda la pagina di fano e vediamo una notizia che rimbalza un po su tutti i giornali perché ieri c'è stato un comunicato di terna che ha annunciato l'approvazione del piano di sviluppo un piano di sviluppo degli elettrodotti quindi della fornitura di energia elettrica che interessa anche la nostra regione vediamo il titolo ora adriactic link che è elettrodotto che parte proprio dal territorio fanese da carrara si immerge poi in mare nei pressi di metauriglia e riemerge in terra d'abruzzo ebbene raddoppia non solo un elettrodotto ma ce ne saranno due uno seguito all'altro e non si sa poi se ci sarà se sarà la stessa trincea probabilmente no ad ospitare le stesse tubazioni ci dovrà scavare magari individuare un altro un altro percorso per raggiungere il mare e probabilmente non sarà nemmeno metauriglia oppure il punto di metauriglia attuale individuato per il primo elettrodotto ad ospitare appunto le apparecchiature per l'immersione in mare del secondo terna assicura non aumenterà l'impatto del territorio in quanto tutto è sotterraneo anzi si abbatterà l'inquinamento elettromagnetico previsto un investimento di un miliardo per dieci anni e per quanto riguarda fano in questo momento terna sta valutando le richieste che l'amministrazione comunale ha fatto in rappresentanza soprattutto dei residenti di carrara per realizzare opere compensative rispetto ai disagi che eventualmente ovviamente comporteranno i lavori che verranno realizzati nel loro territorio questo per quanto riguarda l'adriatic link e vediamo anche come il corriere adriatico riporta la notizia eccola qua rete elettrica high tech per le marche terna investe un miliardo in dieci anni presentato il piano di sviluppo che prevede anche il raddoppio come abbiamo detto dell'adriatic link che parte da fano questo un po un altro articolo che presso a poco dà le stesse notizie torniamo al resto del carlino e parliamo ancora della basilica di vitruvio insomma un ritrovamento che è stato veramente sensazionale che ha fatto notizia in tutta italia l'effetto basilica è contagioso annunciate visite da tutta italia ovviamente sono entusiaste le guide turistiche come manuela palmucci che è un po la guida per antonomasia della città di fano che conduce frotte gruppi di turisti a visitare gli scavi romani ma anche un'altra fano forse meno conosciuta meno apprezzata ma ugualmente importante come la fano medievale la fano barocca somma fano ha mille mille meraviglie da visitare in questo caso abbiamo delle dichiarazioni sia della guida turistica ma anche di del presidente degli alberghi Luciano Cecchini che appunto mostra la sua soddisfazione perché questa insistenza dell'aspetto mediatico ha fatto sì che anche a fano turistica ne benefici ebbene anche l'assessore alla cultura Cora Fattori dice ora dobbiamo lavorare per rendere ancora più visibili i siti archeologici della città finalmente una consapevolezza speriamo che si traduca veramente in fatti concreti perché le aree archeologiche della città sì ci sono sono belle, sono attraenti ma sono scassamente visibili per quanto riguarda orari e metodi di visita quindi questo intervento dell'assessora Cora Fattori è molto importante il primo atto ha detto è quello di permettere la visita anche se parziale del teatro romano in via di Amicis a due passi dal nuovo sito archeologico di via Vitruvio e poi al momento però dobbiamo dire che gli scavi sono sospesi sono sospesi perché la soprintendenza è in attesa del via libera del ministero della cultura al quale ha chiesto un finanziamento di 50.000 euro per proseguire le indagini archeologiche in tutto il cortile dell'area privata in cui si sta operando e proprio dall'esito di queste indagini ci si aspettano ancora ritrovamenti molto molto importanti ma c'è un articolo che voglio segnalarvi sulla pagina che riguarda Pesaro ebbene sembra che Pesaro un pochino di invidia no, la parola forse è troppo esagerata ma per quanto scoperto a Fano un po' si nutri ebbene la scoperta a Fano nel corso di alcuni scavi di quella che potrebbe essere la basilica di Vitruvio ha riportato forzatamente di attualità a Pesaro la questione dei mosaici del Duomo come dicono a Pesaro noi abbiamo una risorsa bellissima che è molto molto importante non ha molte cose uguali in tutta Italia sì ci sono da qui l'Eia, ci sono in pochi altri posti comunque è una delle cose preeminenti a livello mosaicale Ravenna non ne parliamo ovviamente però a livello paleocristiano ebbene questa risorsa da due anni è pochissimo accessibile forse non è nemmeno accessibile allora che cosa dicono i pesaresi dopo quanto è stato trovato a Fano per quanto riguarda l'ipotetica basilica di Vitruvio la soluzione ideale ottenibile grazie alle nuove tecnologie già in uso da tempo altrove e perseguibile gratuitamente con i contributi europei che non sono mai stati chiesti finora per questo obiettivo sarebbe il distacco del mosaico superiore e il suo ricollocamento al piano dell'attuale pavimento del Duomo con una copertura trasparente anti appannaggio anti scivolo e anti graffio previo sondaggio col georadar scoperta e restauro del mosaico inferiore risalente al IV secolo che lo costituisce che anzi che costituisce una delle più antiche ed esteticamente significative testimonianze dell'area dell'era paleocristiana insomma ci sono due pavimenti sovrapposti uno del IV secolo inferiore quell'altro un pochino più tardi superiore bisognerebbe farli vedere tutti e due perché sono veramente una delle meraviglie della Pisaurum antica e quindi dell'arte mosaicale di quel tempo sono attrattive turistiche che possono tradursi in benefici concreti di carattere economico per quanto riguarda il turismo del nostro territorio se mettiamo insieme i mosaici del Duomo di Pesaro se mettiamo insieme la Fano Romana i bronzi di Pergola a Sant'Angelo Invado insomma ci sono tantissime cose la via Flaminia sono tantissime cose veramente che rendono attrattiva la nostra provincia torniamo alla pagina di Fano del resto delle Carlino e parliamo di un fatto di un evento giudiziario rapina il parroco in cattedrale e finisce a processo eccolo qua in aula un 48enne secondo l'accusa aveva chiesto soldi al sacerdote il sacerdote non gliele aveva dati lui ha reagito con violenza e ha preso si è impossessato di 50 euro spingendo il sacerdote in sacristia lui si era rifiutato e così era scattata la reazione violenta ebbene questo episodio è stato compiuto ai danni del parroco del Duomo dell'ex parroco del Duomo Luciano Torcellini il quale ha reagito santamente non ha nemmeno presentato querela non ha voluto nemmeno la restituzione dei soldi però siccome la vicenda è oggetto di una procedura d'ufficio questo ladro questo ladro si tratta di un 48enne originario di Caserta è finito davanti al giudice e ora dovrà rispondere appunto di quello che ha fatto secondo la ricostruzione dell'accusa il 48enne si presenta il 12 settembre il 12 settembre ovviamente di qualche anno fa del 2021 ecco vuole chiedere dei soldi al parroco si fa avanti ma il religioso rifiuta di dargli il lobolo e lui invece di andarsene si arrabbia e passa le mani prende il don per le braccia e con forza lo spinge fin dentro alla sacristia della cattedrale lo immobilizza e così riesce a impossessarsi appunto di 50 euro che il sacerdote aveva con sé ma non arriva molto lontano due giorni dopo il fatto arriva sul tavolo del commissariato di Fano la polizia fa scattare le indagini ascolta la vittima visiona le telecamere sulla zona e nel giro di poco individua il responsabile ebbene contro il 48enne la procura di peso l'ha formalizzato l'accusa di rapina aggravata dall'età della vittima che è un'ultra 75enne infatti poco dopo Don Torcellini Don Luciano è andato in pensione altri episodi di cronaca bici rubate in rete domiciliari confermati alcuni modelli potrebbero presto tornare nelle mani dei proprietari anche in questo caso si tratta di un fanese di 40 anni che rubava biciclette poi le metteva su internet per venderle e qualche colpo gli è riuscito però qualcuno poi ha individuato il proprio veicolo e quindi ha presentato denuncia e quindi gli inquirenti sono riusciti a risalire al ladro ed ora parliamo di un'altra opera importante per quanto riguarda le infrastrutture dopo l'annuncio che a Fano si farà il casellino di Fenile in questo caso si fa un nuovo casello ma non per quanto riguarda l'autostrada invece per quanto riguarda la superstrada nuova opera a Calcinelli lo svincolo della superstrada sarà all'altezza della zona industriale Laghi l'ANAS finanzierà e realizzerà il lavoro che è già stato inserito nel piano nazionale per un investimento di 2 milioni e mezzo la notizia ufficiale è arrivata ieri nel corso di una conferenza stampa indetta dall'amministrazione comunale di Colli al Metauro e dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli alla quale ha partecipato anche l'esecutivo di Palazzo Raffaello e con il sindaco Pietro Briganti quindi Calcinelli avrà questa stazione di uscita e di entrata in più potrà essere fruibile a metà 2025 l'assessore Baldelli ha detto benefici ambientali e soprattutto economici per quanto riguarda la viabilità e il traffico delle merci oggi il prefetto Emanuela Greco sarà a Pergola per la cerimonia del risorgimento ebbene Pergola viene premiata per un fatto storico viene premiata con una medaglia d'oro per essere stata la prima nelle Marche ad insorgere contro il potere temporale dello Stato Pontificio siamo nel 1800 quindi appunto dicevo è un fatto storico però è un fatto che non viene dimenticato e Pergola certo andrà orgogliosa di questo fatto a Durbino a Durbino si reclamano gli abiti dei duca che sono stati prestati a Piobbico recuperiamo gli abiti dei duchi rovereschi Giorgio Londei ex sindaco e onorevole dice sono stati prestati al castello di Piobbico dieci anni fa dovevano rimanere solo quattro anni invece non sono più tornati ebbene sono degli abiti preziosi dal punto di vista storico tra essi c'è anche il corpetto di Francesco Maria I della Rovere sepolto proprio a Santa Chiara insieme alla moglie Elisabetta Gonzaga vedete qui in questa fotografia i due abiti il corpetto e l'abito della della nobile donna appunto Elisabetta Gonzaga dice dice Londei credo che il castello vada ringraziato per averli ospitati anche perché ci sono state tante visite ma il prestito che sarebbe dovuto durare solo quattro anni va avanti ormai da dieci e penso che gli abiti abbiano esaurito la propria funzione e debbano tornare a Urbino per essere esposti su queste proposte gradiremmo una risposta da parte di Cioppi dice appunto Londei vediamo anche un'altra pagina per quanto riguarda l'inaugurazione di un importante servizio che è quello della farmacia a Cantiano che è gestito dall'Aset a Cantiano si è ristrutturata anche la farmacia il sindaco Piccini devo dire grazie al concessionario Aset Spa ha pagato per intero il ripristino dei locali locali che erano stati alluvionati seriamente danneggiati durante l'alluvione che ha sconvolto un po' tutto l'assetto urbanistico di Cantiano ora sono stati ripristinati sono stati anche rimodernati e quindi ieri c'è stato il taglio del nastro lo vediamo qui nella fotografia con il sindaco Piccini e qua abbiamo il presidente di Aset Spa Paolo Reginelli appunto insieme tagliano il nastro qui abbiamo Spacazzocchi un dirigente appunto dell'Aset qualche notizia di Pesaro qualche notizia di Pesaro lo vediamo subito per quanto riguarda questo articolo che riguarda l'assetto del lavoro nella nostra provincia lavoro la grande fuga intitola il Carlino oltre 10.000 nel 2022 hanno dato le dimissioni e cresce purtroppo il precariato ed è una fotografia della nostra provincia per quanto riguarda la situazione dell'occupazione il dato è un aumento del 17% rispetto al 2021 poi ci sono i licenziamenti del 2007 nel 2022 Rossini della CGL segretario generale dice provinciale ovviamente dice il mercato detta certi trend non le scelte personali e vediamo qui questa piccola tabella sono i numeri per quanto riguarda le dimissioni vediamo che rispetto al 2021 quando erano 8.509 sono aumentate nell'anno appena terminato a 10.199 mentre i licenziamenti sono passati da 1847 del 2021 a 2711 nel 2022 di questi 1.100 sono stati attuati per motivi disciplinari mentre 1.581 per motivi economici ovvero le aziende non riuscivano più a supportare le spese per tutti i dipendenti che avevano ebbene questo è un dato significativo su cui bisognerebbe riflettere e poi vediamo che è tornato in Italia Alessandrini l'omicida per quanto riguarda il delitto il proento delitto che si è verificato nei giorni scorsi a Pesaro fissato per domani l'interrogatorio a Villa Fastigi appunto di Michael Alessandrini è certo che il trentenne risponderà alle domande l'ordinante di custodia che è composta da una decina di pagina ripercorre il delitto e la fuga in auto è tornato ieri alle 13 arrivando da Timisoara in Romania ed è atterrato a Roma scortato dall'Interpol ora è rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi in attesa di essere interrogato e l'interrogatorio è previsto proprio per questa mattina alle ore 10 appunto quello di Michael Alessandrini la lezione di Ivan Cottini al liceo ebbene una lezione interessante sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano ebbene sappiamo benissimo come Ivan Cottini sia il ballerino affetto dalla SLA una malattia che ha veramente cambiato la sua vita ma che non ha influito sulla sua forza di reagire di trovare una ragione ugualmente per la sua assistenza anche se è diventato disabile non ci sono fossi che chiunque non possa saltare ha detto Ivan quando ho scoperto la malattia è stato un momento terribile ma poi ho iniziato a danzare e sono rinato ancora bello leggere quest'articolo di fronte ai ragazzi una bella dimostrazione di capacità appunto di reagire veniamo ancora alle notizie di Pesaro sul resto del Carlino Ratti versioni anni verdi battezzato il Concept Store questo nuovo negozio inaugurato in via Rossini ultimo nato della Maison dedicato allo 0,16 cioè un'età di fascia che riguarda i bambini e i ragazzi pesa pesa la città plastic free anche grazie ai pescatori conquistata la bandiera dal capoluogo per l'attività di sensibilizzazione sull'ambiente l'ecoisola al porto permette di smaltire il materiale intercettato dalle reti ebbene è importante avere un'ecoisola al porto perché i pescherecci oppure le imbarcazioni che vanno in mare spesso riportano a bordo molta plastica il mare infatti è pieno e inquinato dalla plastica e se questa non si può poi depositare non si può scaricare in qualche modo appunto riuscire a smaltire la plastica viene spesso ributtata in mare questo invece con l'ecoisola si riesce appunto a risolvere il problema e a bonificare per quanto è possibile il mare il mare è vasto è una goccia in un grande in un grande mare però insomma goccia dopo goccia qualcosa si riesce a fare quindi una bella bandiera per la pesaro ambientale Montelabate e Vallefoglia 20 milioni con la fusione il consigliere Golini spiega quali sono i vantaggi dell'unione tra i due comuni che è sempre problematica spese un risparmio di 650 mila euro e una urbanistica più razionale in merito a questa appunto a questa visione e vediamo ora il corriere adriatico il corriere adriatico l'apertura è dedicata ancora una volta al condominio di Bellocchi a cui l'aset ha chiuso i rubinetti dell'acqua perché ci sono alcuni condomini che non pagano ma il problema è che essendoci un contatore unico alcuni pagano e altri non pagano però il fatto di aver chiuso i rubinetti danneggia anche coloro che pagano e questi ci sono un po' ribellati e ora si sono rivolti ad un avvocato per presentare una denuncia esposto rivolgono dato che sono stati sempre adempienti ai pagamenti vogliono il loro servizio in carico a legale per un esposto lo firmano gli inquilini che hanno pagato le bollette ci prendono in giro con questi incontri queste promesse in realtà noi siamo dal 7 marzo senza acqua dobbiamo andarla a prendere ad una fontanella che tra l'altro non è nemmeno molto vicina alla nostra abitazione ci sono poi persone anziane alcuni sono disabili addirittura c'è una signora che si muove col deambulatore quindi fa molta fatica andare a prendere l'acqua fuori dalla casa acqua che serve per cucinare per lavarsi per pulire la casa insomma senza acqua è molto difficile vivere al giorno d'oggi chiediamo di riallacciare il servizio poi ASET dovrà procedere contro i morosi quindi non viceversa perché attualmente l'intento è quello di prima riscuotere parte almeno del credito da parte di ASET e poi ripristinare l'acqua in realtà i condomini dicono no prima ridateci l'acqua poi procedete pure verso coloro che sono morosi bisognerà vedere come andrà a finire questa questione droga nel giardino ma è una trappola il giudice lo assolve è stato posto secondo la ricostruzione di questa vicenda un pacchetto di stupefacente da un parente della vittima in un giardino l'accusa è finita alla vittima però insomma è riuscito a dimostrare di fronte al giudice che lui quel pacchetto non ce l'aveva posto e quindi il giudice lo ha assolto anche sul Corriere Adriatico si parla del nuovo svincolo di Calcinelli di Fano Grosseto sarà realizzato tra Calcinelli e Lucrezia Baldelli l'assessore regionale dice sicurezza ma anche sviluppo ovvero sì sicurezza per la viabilità ma anche sviluppo economico per quanto riguarda Fossombrone invece vediamo che in piazza e nel bosco delle cesane vino e tartufo daranno spettacolo Bianchetto e Bianchello protagonisti del festival tra stand e chef in azione ebbene due fine settimana dedicati alla buona cucina a Fossombrone tra vino e tartufo e beh insomma sono due eccellenze del nostro territorio si inizia domani alle 9.30 con una novità Trophel Experience la possibilità di vivere l'esperienza alla ricerca del tartufo Bianchello insomma non solo mangiarlo non solo gustarlo ma anche è bello andarlo a ricercare e a trovare a Cantiano anche qui abbiamo l'inaugurazione della farmacia una farmacia più efficiente e funzionale la farmacia torna a casa e per quanto riguarda Senigallia siamo in conclusione ma voglio leggervi anche questo titolo Ex Hotel Marche una desolazione il progetto un albergo degli sportivi c'è stato un sopralluogo del campione olimpico Sanzo dirigente di sport e salute S.P.A. ed è il presidente della provincia insomma la situazione è stata trovata molto molto in modo molto molto precario comunque l'intento è quello di recuperare questo stabile era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 puntualmente per le notizie del giorno alle ore 20.30 con occhio alla notizia di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.